Ciao a tutti, amici di Vanilla. Vi saluto da una piadineria, i chioschi che nascono in Romagna, ma ormai sono diffusi in tutta Italia, per parlare di un argomento che, come vedremo, ha molto a che vedere con il cibo. In un mese imprecisato del 1798, il dottor Tessier era di turno all'ospedale di Versailles quando vide arrivare un giovane deperito e debilitato. Diceva di chiamarsi Tarar e la ragione del suo male era una forchetta d'argento che aveva ingoiato due anni prima. Il paziente era in balia del dolore e chiese espressamente del barone Pierre-François Persy, un medico che già in passato lo aveva curato. Tessier si mese in contatto con il collega, Persy andò a Versailles e interrogò Tarar. Questi ribadì la storia della forchetta e, a suo dire, l'incidente aveva posto fine alla fame insaziabile che lo aveva contraddistinto negli anni addietro. Il quadro clinico di Tarar è un argomento che ha interessato sia la scienza medica del passato sia quella presente. Ah, faccio una premessa. La prima R di Tarar è una vibrante uvulare e andrebbe pronunciata molto moscia, per essere spicci, ma la mia piena R italianissima mi impedisce proprio di farcela, quindi chiedo perdono in anticipo a tutti i puristi delle pronunce. Tutt'oggi la causa del suo proverbiale appetito gargantuesco è sconosciuta e si ipotizza che fosse dovuta all'ipertiroidismo o a un raro disturbo dell'apparato endocrino. Nel 2006 il reumatologo e scienziato svedese Jan Bordeson ne ha studiato il caso nel suo libro Fricks, The Pig-Faced Lady of Manchester Square and Other Medical Marvel, e ha optato per un danneggiamento dell'amigdala, un complesso nucleare situato nel cervello. All'epoca non mancarono i trattati medici sull'argomento e il più importante fu il Journal de Medicine Chirurgie Pharmacie, dove nel 1804 lo stesso Persi forni un resoconto molto approfondito su uno dei suoi pazienti più strani. Scrive il barone, si immagini tutto ciò che gli animali domestici e selvatici, i più immondi e più avidi, sono capaci di divorare e si avrà l'idea dei gusti e dei bisogni di Tarar. Gli stessi cani e gatti fuggivano alla sua sola vista come se presagissero, in un certo qual modo, la sorte che li attendeva. Ma dunque, di cosa era capace Tarar? Prima di scoprirlo un piccolo break pubblicitario a cura di Vanilla Magazine. Sì, perché questi video di storia non interessano le aziende che sponsorizzano quasi tutti gli altri canali di dimensione simile a Vanilla e quindi almeno la pubblicità ce la facciamo da soli. Chiedo ai tanti spettatori non iscritti, siete circa 5 su 10, di cliccare il tasto iscriviti e sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale. Già che siamo qui, se volete fare l'abbonamento al canale YouTube costa solo un euro al mese e ci consentite di migliorare sempre di più la qualità e soprattutto la varietà dei nostri video. Oggi gli abbonati sono già quasi 600 e l'obiettivo è arrivare a mille per l'inizio dell'estate, quando ci si potrà spostare con più facilità e con qualche fondo in più potremo produrre dei contenuti un po' in tutta Italia. Se volete sostenerci trovate i link nella descrizione del video. E ora continuiamo dallo studio con l'articolo scritto da Nicola Iannuale che ho editato personalmente. Della sua biografia si sa ben poco. Quando morì, persì ipotizzò che avesse 26 anni, ne consegue che nacque intorno al 1772. La sua città di origine era un modesto villaggio nei pressi di Lione, forse il comune di Tarar, con una sola R, la cui trasse ispirazione per il suo nome d'arte. Quello di battesimo, invece, è sconosciuto. Era il figlio di una modesta famigliola di contadini e già nella più tenera età manifestò i sintomi di una fame implacabile. Con la pubertà il suo organismo peggiorò, i genitori lo cacciarono di casa e gli imposero di provvedere da solo al suo dispendioso sostentamento. Tarar, infatti, necessitava di ingenti quantità di cibo e il suo stomaco sembrava un pozzo senza fine. Eppure, come ci tramanda per sì, il suo aspetto fisico non rispecchiava questa particolare condizione. Pesava appena 45 chili, era magro e di media statura, con i capelli biondi e le labbra sottilissime, quasi inesistenti. Dopo l'abbandono del tetto paterno, Giro vagò per qualche anno in cerca di cibo e si unì a una banda di ladri e prostitute. Iniziò a mendicare e a compiere piccoli furti, ma intuì che poteva sfruttare la sua voracità in delle esibizioni e conobbe un ciarlatano che lo trasformò in un fenomeno da varaccone itinerante. In quegli anni Tarar sfidò il pubblico a lanciargli qualsiasi cosa da ingerire. Tappi di sughero, sassi, animali vivi o frutta intera. Tutto ciò che entrava nella sua bocca poi non vi usciva. Nel 1778 si mise in proprio e andò a Parigi per continuare la sua bizzarra carriera di artista di strada, se così lo possiamo definire. Lo spettacolo era sempre lo stesso. La folla tonita gli lanciava qualcosa e lui la deglutiva. In poco tempo divenne molto popolare, ma dovette affrontare le conseguenze di una grave occlusione intestinale. Finché non si ritirò dalle scene, se così si può dire, entrò e uscì dall'Hôtel d'Eure, il più antico ospedale parigino, come se nulla fosse. Tarar si recava dai medici in preda a fortissime coliche e questi lo curavano con dei potenti lassativi. Il dolore passava e subito riprendeva a cibarsi di qualsiasi cosa avesse attorno. Di quel periodo per sì ci tramanda alcuni aneddoti. Un giorno Tarar propose a un tale dottor Giraud di verificare la sua guarigione con un singolare esperimento. Ingoiare il suo orologio da taschino e restituirglielo dopo la defecazione. Ovviamente la richiesta non fu accolta. Tarar continuò a mangiare oggetti per intrattenere il pubblico e i soggiorni ospedalieri divennero un appuntamento fisso della sua agenda, se così possiamo definirla. Tutto ciò andò avanti finché un altro medico, Messier Desaux, volle fargli uno scherzo. Un po' per spaventarlo, un po' per convincerlo a smetterla con le sue malsane abitudini alimentari, scrive Persi, gli annunciò che questa volta avrebbe potuto salvarlo solo aprendogli lo stomaco, e ordinò al signor Courville, uno dei suoi assistenti, di far preparare sul campo l'apparecchiatura. Il panico si impadronì di Tarar, che si curò alla bene meglio, bevendo dell'olio tiepido, e fuggì a gambe levate per non tornare mai più. Da quel momento si aprì un nuovo capitolo nella sua vita. Allo scopio della guerra della prima coalizione si arruolò nelle file dell'armée révolutionnaire, ma le razioni dell'esercito erano misere. In cambio di un po' di cibo in più, si accordò con i suoi commilitoni per sostituirli in compiti anche sgradevoli come la pulizia delle latrine, e arrotondò, appropriandosi degli avanzi della mensa. I suoi sforzi però non bastavano, e in poco tempo si ritrovò deperito e debilitato. I suoi superiori lo raccomandarono alle cure dell'ospedale militare di Hulzoran, al confine con la Svizzera. I medici della struttura certo non si aspettavano un paziente del genere, e pur accortandogli il quadruplo di una razione normale, il suo appetito non diminuì. Il povero Tarar continuava ad avere fame, e non disdegnò di frugare nei cassonetti o nelle grondaie, di sottrarre pietanze agli altri pazienti e di cibarsi di cataplasmi. Nessuno capiva il perché di quel suo particolare quadro clinico, ma, da un punto di vista medico, era interessante studiarlo. Perciò attorno a lui si riunì un'equipe capeggiata da un chirurgo militare, il dottor Courville, che già l'aveva conosciuto ai tempi dell'Hotel Die, e il barone per sì. Era impossibile, formulare una diagnosi, e i medici si concentrarono sul valutare fin dove si potesse spingere la sua fame. Grazie a questi studi persistilo un compendio di tutte le caratteristiche di Tarar. Come si è detto, nonostante la sua singolare dieta, non era affatto sovrappeso, ma aveva una bocca molto ampia e i denti macchiati. Quando era a digiuno, la sua pelle diventava molle e si piegava su se stessa, a stomaco pieno dove pieno si fa per dire, il suo addome si gonfiava come un palloncino. Le guance, invece, erano rugose e flaccide, e potevano contenere fino a dodici mele contemporaneamente. Come se non bastasse, Tarar era soggetto a un'intensa sudorazione, che lo portava a puzzare a tal punto che, scrive per sì, a venti passi non si sarebbe potuto sopportare il suo avvicinamento. I medici notarono che dopo i pasti la situazione si aggravava, il suo corpo, già di per sé caldo, diventava bollente e si circondava di una sorta di vapore. Sudorazione e conseguenti cattivi odori si intensificavano, gli occhi si riempivano di sangue e il paziente iniziava a ruttare in continuazione. Infine, Tarar cadeva in un sonno profondissimo e nelle successive ore nulla poteva svegliarlo. A questo punto la domanda sorge spontanea perché non ingrassava? Anche se oggi, dopo oltre due secoli, è impossibile rispondere, risulta interessante notare che nemmeno dopo aver mangiato inimmaginabili quantità di pietanze, il suo corpo gli imponeva il vomito. D'altro canto, il conto glielo presentava più in basso, con numerosi e intensi attacchi di diarrea. Persili descrisse come fetidi al di là di ogni concezione. Tutti questi dettagli Courville e Persili appresero in seguito degli esperimenti. Nel primo di una lunga serie gli offrirono un banchetto, in teoria imbandito per circa 15 operai. Il menù prevedeva due enormi pasticci di carne, cotti al forno con acqua, sale e grasso, e ben quattro brocche di latte. È facile immaginare la gioia negli occhi di Tarar quando gli dissero che tutto quel ben di Dio era a sua disposizione. Non se lo fece ripetere due volte e, come si suol dire, a momenti divorò anche i piedi del tavolo. Come da prassi, poi cadde in un sonno profondo. Attorno a lui, invece, lo stupore regnò sovrano. A quel momento la fantasia dei medici si scatenò e ogni volta il paziente non tradiva le aspettative. Un giorno Tarar catturò un gatto vivo e lo staff lo lasciò fare. Ne strappò a morsi l'addome, ne beve il sangue e ne risparmiò solo le ossa. Poco dopo sputò il pelo e la pelle. La dieta animale non si esaurì lì e Courville offrì serpenti, lucertole e anguille. I mesi passavano, Tarar era pur sempre un soldato e l'esercito lo aveva mandato a Hulz-Horin per guarire dal deperimento. Non certo per vivere da Nababbo. Un Nababbo molto alternativo. I suoi superiori lo richiamarono, ma Courville non volle privarsi degli studi su di lui e propose al generale Alexandre de Boarnet un compromesso che accontentasse tutti. La fama, o fame che dir si voglia, di Tarar era ben nota e poteva prestarsi anche a scopi militari. Dalla teoria si passò alla pratica e Courville fece mangiare una scatola cilindrica di legno con dentro una lettera per poi appurare che, dopo la defecazione, la carta rimaneva intatta. Problema risolto. Tarar sarebbe diventato un messaggero sotto copertura, incaricato di trasportare documenti. De Boarnet, però, era molto scettico sull'effettiva efficacia del ragazzo, che riteneva semplicemente pazzo. Seguì una dimostrazione al cospetto dei membri dell'armée d'Huren, dove Tarar ingoiò la custodia linea e ricacciò con successo il messaggio che conteneva. Come premio ebbe una carriola con 30 libri di polmoni e fegato di toro, crudi, che divorò senza troppi complimenti. De Boarnet accettò la proposta di Courville, ma era restio da affidare a Tarar documenti importanti. Per questo motivo, il suo primo incarico fu di consegnare un messaggio a un colonnello che i prussiani tenevano prigioniero nei pressi della cittadina di Neustadt. De Boarnet gli disse che si trattava di una lettera con informazioni cruciali, ma in realtà il suo contenuto chiedeva al mittente di confermare di aver ricevuto la nota e, nel caso, comunicare eventuali dettagli sull'esercito rivale. Tarar si travestì da contadino e col favore delle tenebre, oltrepassò il confine prussiano, ma si rese conto di non conoscere il tedesco e le milizie del Kaiser lo smascherarono quasi subito vicino a Landau. Courville però aveva previsto una simile eventualità, e quando i soldati perquisirono Tarar non trovarono niente. Il generale Zegli fu messo al corrente della situazione e ordinò la fustigazione del prigioniero affinché vuotasse il sacco. È ironico pensare che in realtà doveva far vuotare a Tarar ben altro se voleva delle informazioni, e infatti dopo 24 ore dall'arresto la natura bussò alla sua porta. In un pubblico e violento attacco di diarrea defecò i documenti che gli avevano affidato, ma ebbe la prontezza di reingoiarli all'istante. L'episodio divertì al contempo fece infuriare i prussiani che finsero di impiccarlo. Lo condussero al patibolo e gli posero il cappio attorno al collo per poi liberarlo, per cuoterlo ancora e rispedirlo all'esercito francese. L'esperienza ovviamente traumatizzò Tarar e si convinse della necessità di guarire da quella misteriosa malattia che lo affliggeva fin dalla tenera età. Di sua spontanea volontà tornò all'ospedale di Ulzoren e supplicò Persi di sottoporlo a qualsiasi terapia gli venisse in mente. Il medico le provò tutte. Usò in pacchi doppio, levande acide, pillole di tabacco e vongole veraci del po' di levante, delle quali se ne cibavano i viaggiatori per combattere i morsi della fame durante i lunghi percorsi. Ovviamente fu tutto inutile e nulla riuscì a placare l'ingordigia di Tarar. La buona volontà c'era, ma lo stomaco brontolava in continuazione e si ribellava a qualsiasi tentativo di dieta controllata. Le infermiere lo sorpresero spesso a sgattaiolare fuori dalla struttura e a rovistare fra l'imbondizia o contendersi gli avanzi dei macellai con i cani randaggi. Il povero Tarar aveva così tanta fame che si adeguò perfino a bere il sangue prelevato dai pazienti e tentò di cibarsi dei cadaveri presenti nell'obitorio. Il tempo passava e non c'era nessun progresso. Tutti i dottori dell'ospedale erano convinti che fosse vittima di una qualche malattia mentale e necessitasse di un trasferimento in manicomio, ma non per sì, che continuò con i suoi esperimenti. Tuttavia, nemmeno lui riuscì a difenderlo quando scomparve un bambino di 14 mesi da un ambulatorio. I sospetti caddero sul paziente più discutibile della struttura che, visti i precedenti, fu accusato di cannibalismo. Anche se non c'era alcuna prova contro di lui, lo staff lo cacciò. Nei successivi quattro anni, di Tarar si perse ogni traccia finché, nel 1798, si presentò all'ospedale di Versailles. Come da lui richiesto, il dottor Tessier chiamò il barone per sì. Il paziente era convinto che la causa dei forti dolori di cui era vittima fosse una forchetta d'argento che aveva ingerito e pregò per sì di estrargliela in qualche modo. La diagnosi del dottore, però, fu un'altra. Una tubercolosi in fase avanzata che non gli avrebbe lasciato scampo. Un mese dopo, Tarar ebbe un violentissimo attacco di diarrea cronica infiammatoria e morì. Il suo cadavere iniziò a marcire molto in fretta e nessuno ebbe il coraggio di sezionarlo tranne Tessier. Era curioso di scoprire i misteri dell'organismo di Tarar, che si occupò personalmente dell'esame autoptico. La fantomatica forchetta d'argento non saltò fuori, ma scoprì che il corpo era pieno di pus e che l'esofago era molto più ampio del normale, proprio come il canale che collegava la bocca allo stomaco. Anche gli altri organi, quali fegato e cistifellea, si presentavano di dimensioni spropositate. All'origine della sua leggenda, però, era sempre lo stomaco, che occupava circa il 90% della zona addominale ed era totalmente ricoperto di ulcere. Non si sa cosa ne fu del cadavere, e così ebbe fine la vita di Tarar, l'uomo dall'appetito gargantuesco, un mistero medico, tutt'oggi senza alcuna spiegazione. Grazie a tutti!